Secondo un gruppo di psicologi, le novità che riguardano i permessi di soggiorno per motivi umanitari dei migranti del decreto sicurezza rischiano di incrementare solo la lotta all'integrazione e non la sicurezza del paese. Con la riduzione di servizi a favore dei migranti ne conseguirà il totale abbandono e l'invasione delle strade da parte di persone disperate disposte a tutto per sopravvivere e facili vittime di violenze. È per questo che in Sicilia nasce l'iniziativa del movimento Psicologi con i migranti. Dall'idea di un gruppo di psicologi di Modica, si tratta di un movimento di protesta verso il decreto di cui si richiede una profonda modifica per tutelare sia i migranti che i cittadini. Gli psicologi hanno realizzato un documento che ha già raggiunto 350 iscritti e che prevede la tutela della protezione umanitaria messa a rischio dalla nuova legge, secondo cui i beneficiari saranno costretti ad abbandonare i centri di accoglienza straordinaria dopo il ritiro del permesso di soggiorno, che fino ad oggi prevedeva l'accesso al lavoro, al servizio sanitario nazionale e all'assistenza sociale con durata di due anni. Adesso verrà sostituito con dei permessi di protezione speciale con durata che va dai sei mesi ad un anno. Così hanno posto il documento all'attenzione dell'ordine degli psicologi e hanno chiesto di farsi portavoce di questa ribellione civile verso chi semina odio nei confronti dei deboli, verso chi aggiunge sofferenza a chi già soffre.